Musica Musica Come è l'alto, signor Canavera? Come è l'alto? E' chiaro che le attività sono ancora in corso per quanto riguarda la bonifica della falda e basta girare per le strade vicino e si possono notare i mezzi che trasportano il materiale. Chiaramente il rischio è che col tempo l'inquinamento diffondendo vada anche in profondità interessando quindi anche ampi spessori d'acqua di falda per cui poi la bonifica diventerà problematica col passare del tempo visto che interesserà una profondità di falda elevata. Difficile dire quanto, comunque è chiaro che col tempo l'inquinamento diffonda e quindi interessa spessori maggiori. Grazie per la visione! Grazie per la visione!